Attia, conjuntamente con la Camera di Commercio, sta organizzando un dibattito politico. Attia, conjuntamente, per me dice che noi abbiamo apportato un dibattito franco e sano e toccando il tema che sta sumamente importante, entro l'economia del nostro paese, Aruba. Ma chi sa che va sopra il nostro diopinione sull'economia e l'adria principale. E, chiaramente, sa che ci sono le comunità in generale. Mi chiede che è più importante che il cittadino è che il buon informatore, per me che non si può dare un voto. E' importante, mi chiede, anche, che non ha raiuto l'opportunità, ma per me guardo informare debidamente. Attia, rappresentando il Commercio, chiaro che sia il rumbo con la prossima governazione che va arrivare nel nostro paese, Aruba. L'importante è il costo di fare business qui in Aruba, che è da un livello abbastanza competitivo. e, per esempio, il nostro paese è interessato a passare a Kiko e accionare che lo vado a ottenere. Sì, per l'altro. Sì, per l'altro. Sì, per l'altro. No, chiaro. Nos interessa, chiaro, per seguirla, di fare la economia, di sviluppare e di crescere. C'è il desiderio di non solo i commercianti, però i nostri come cittadini del paese qui. No sa che c'è un deficit, no sa che c'è la finanza pubblica, ma c'è la finanza pubblica, ma c'è la finanza pubblica e la finanza pubblica.